La prima domanda che vorrei farle è proprio questa, che effetto le fa lei che ha interpretato queste scene, questi sketch che sono scritti qua, a vederli scritti, a leggersi in sostanza? Vorrei fare una premessa, prima di tutto sono contentissimo, felice, raggiante che il dottor Alberto Povilacque, che noi sappiamo che scrittore è, che uomo intelligente è di primissimo ordine, mi abbia notato, secondo perché siccome io non credo… Ma non credo che sia il solo ad averla notata, diciamo la verità. Vabbè, per il libro, secondo è perché sarà un'idea mia, io non mi credo nessuno, è vero o no? Non mi credo nessuno e mi fa piacere vedermi là sopra perché un giorno qualcuno prenderà questo libro e dirà, oltre gli altri c'era anche un totò. Ok, quindi a parte questo effetto, questa premessa, la domanda è appunto che reazioni ha lei leggendo questi sketch che lei ha interpretato molte volte? Sì, beh, leggendoli io li rivedo come li facevo, certo un altro, un profano, gli rimane solamente il testo, però se qualcuno mi ha visto, allora mi rivede leggendo… Quindi è un'occasione, è un'occasione di ricordo, diciamo. D'accordo. Senta, vogliamo lasciare un momentino da parte il libro? Come vuole. Del quale abbiamo già parlato e anche molto bene, no? È il libro del nostro ottimo Bevi l'acqua e vedere un po'… L'illustre, dottor Bevi l'acqua. L'illustre, Bevi l'acqua, fare un po' di conoscenza con lei, anche perché per me è una novità. L'abbiamo fatto prima la conoscenza però. Vabbè, ma questo non si dice. Dunque, quello che volevo chiederle è questo, vogliamo parlare un po' dei suoi inizi, dei suoi inizi di attore? Sì, io dovevo fare l'ufficiale di Marina, ma la disciplina a me non mi andava perché sono indisciplinato e sono scappato di casa, scappai di casa e amoreggiavo con una ballerina, con una canzonettista dell'epoca e andai in teatro e ho cominciato con la commedia dell'arte, a soggetto si recitava. Era giovanissimo, mi dirà, poco. Dove è avvenuto questo, a Napoli? A Napoli, sì. E ha avuto subito molto successo? Beh, facevo il mametto, no? Insomma, sì, facevo ridere. Poi sono passato ad un'altra compagnia che c'era il felice Sosciamucca che disse al capo comico o va via lui o vado via io, perché io facevo delle mosse, delle cose, il pubblico li deve e questo si seccava. Ho capito, e poi chi è andato via? Così tanto per la vita? Io, io. Ah, è andato via a me, si capisci? Tu eri più importanti? Eh, beh, sì. Senta, e il cinema? Quando è cominciato? Il cinema è cominciato nel 1937. Io sono un veterano, un veterano del cinematografo, ho cominciato fermo con le mani e poi andato avanti così. Cioè, in quell'epoca alternavo cinema e teatro, cinema e teatro, poi ho lasciato il teatro definitivamente e sono passato al cinematografo. Definitivamente? Definitivamente. Ma lei ha ancora nostalgia per il teatro? Beh, sì, sì. Infatti non vado a teatro per non soffrire. Perché ha nostalgia per il teatro? Le sembra più importante? No, non è che è più importante, è vivo, c'è il calore del pubblico, il pubblico è una droga e monta. E mi arriva due volte in un finale, allora è il tempo di guerra, al brangaccio, e il pubblico credeva tanto e approfonditiva tanto che io mi strappai tutti i vestiti da dosso e mi fermai alla mutante per fortuna. Senta, a proposito di questo discorso sulla guerra, lei ha nominato la guerra. Io so che durante la guerra, per esempio, lei ha passato anche qualche guaio, perché questo molti di noi, purtroppo meno giovani, se lo ricordano direttamente, lei affrontava dei testi abbastanza scabrosi, diceva delle cose che non si dicevano, che non si potevano dire. Non so se era coraggio o incoscienza. Vabbè, quello che fosse, comunque questo le ha provocato dei guai. Molti guai, molti guai. Per esempio, me ne racconti uno. Per esempio al teatro, al coso, al valle, una sera, c'è stata uno che da un palco mi ha detto, vai al fronte! Ma un altro signore da Giuglia ha risposto, ci vada lei, buffone! E io con gli occhi bassi, così dico, a chi succede? Le catombe! Questi poi sono usciti fuori e hanno tirato una bomba fuori all'ingresso del valle, sì. L'erete uscito? No, stavo dentro. Quindi si è messo anche un po' di bocca. Ecco, allora. Senta, Dottor... E altri, e altri. Poi mi sono dovuto nascondere perché mi avvisarono dalla questura che Caruso aveva dato ordine, questore Caruso, ordine di catturarmi per portarmi a nord. Alla storta mi avrebbero ammazzato senz'altro. Quindi era un elemento pericoloso. Sì, allora io sono scappato da un amico che aveva una casa verso il Gelsomino da quella parte lì e questo qui, questo qui dopo mezz'ora viene e dice c'è una signorina che vuol conoscerla. Dico, sono lui, ma qui sto nascosto qua. Dico, no, ma è una parente. Dopo mezz'ora c'è un mio compare, insomma lo sapevano tutti quanti. A un certo momento sono andate perché se uno dice, un tedesco, dice dove è stato il tedesco, gli dicevano là. Era di picciare a nascondersi. Sì, Toto, vogliamo fare un discorso storico, un tentativo di discorso storico, di alta cultura. Ci proviamo? Volevo dire questo, mi sembra a me che negli anni, soprattutto prima di quest'ultima guerra, lei ha rappresentato in Italia una specie di macchietta centrale, nazionale, che è un po' l'equivalente, io credo, di quello che nel nuovo mondo in America era, è stato Charlotte. Macchietta che da una parte e dall'altra sono state ormai abbandonate perché né lei fa più la macchietta che faceva, non so, ai tempi di San Giovanni De Collato, io cito quello che ricordo, né Charlotte fa più Charlotte, ha fatto altre cose. Però sono rimaste come due esemplari di due situazioni in cui la comicità era messa a servizio della satira, cioè di una precisa osservazione, di una realtà precisa, di una società precisa, non era una comicità astratta, non era una comicità affine a se stessa, ma era sempre con aggancio alla realtà. Ora, questa parentela, lei la riconosce in qualche modo? Innanzitutto, io la ringrazio che lei mi fa l'altro onore di pergonarmi a quel grande maestro che è Sherlock, tutti sappiamo chi è Sherlock. Allora, sì, effettivamente c'era qualche cosa, non era una cosa astratta, veniva sempre dalla vita, dalla satira, dalla caricatura, nella vita degli uomini di tutti i giorni. Sì, ora questo è importante credo perché spesso la comicità di confine ai tempi antichi è una forma di evasione, è proprio una maniera per non pensare alla realtà inventandosene un'altra. È una civiltà. Certo, ma dico soprattutto quando è appunto agganciata, quando è un esame della realtà, un esame si è pure condotto scansonatamente. Si capisce, deformata. Ecco, quindi lei non ha mai rifiutato questa realtà. No, non la rifiuta. Dunque adesso io vorrei concludere questo nostro, purtroppo, breve discorso perché mi ricordo che lei ha scritto un libro di poesia, no? Sì, ha avuto un premio. Ha avuto anche un premio. Un libro letterario. Ha avuto anche un premio letterario. E quindi è uno scrittore. In fin dei conti allora questa mia meraviglia di intervistare lei è del tutto fuori posto perché lei è uno scrittore come quelli che intervisto sempre. Non sono uno scrittore, sono napoletano. Va bene, perché che differenza fa? Eh sì, la poesia è napoletana. Poesia è napoletana. Quindi tutti i napoletani la poesia ce l'hanno un po' dentro. Ah, quindi tutti i napoletani sono poeti? Sì, sono poeti. In un modo o l'altro sono poeti. È sicuro che questo non sia un po' un luogo comune, non si sia un po' abusato di questo? Io conosco i napoletani che non sono affatto poeti. Beh, vabbè, risolvo di me le origini. Sarà l'eccezione. Senta, ce ne volevo recitare una così concludiamo in bellezza. Una che mi ricordo, che ne ho fatte tante, questa qui, l'acquaiolo. Di quanto è questo? Di quanto? Di quando è questa poesia? Beh, l'ho fatto un poesia. È recente. E sentiamo. L'acquaiolo, a Napoli c'erano quelle donne che vedevano l'acqua, quei chioschi. Dunque, fai così. Ogni mattina, scena margiolina, ma guardo il mare, il barco, è una figliola che sta dentro il chioschi, è un'acquaiolo. Si chiama Teresina, si è nota in vent'anni, capilla nero, corto, corto e ricce, una dentatura bianca con mani, con quella di una salute, una nutriccia, una guardata rocchia che sono due sette, su fulmine, su lampa, su un godone. E i giure ci scommette, che si risuscitasse pappagone, muoresse un infarto guardando a sta guaglione. E sa, capite che io sono cliente, che l'acqua non mi importa proprio niente, e me l'ha detto con bella maniera, signor, cagnate strade, io lo tengo innamorato, si chiama Geretilla, è fiscatore, fa di chintà per l'anserone a nero, ma è niente, tu a sto, corro ogni mattina, ma beve l'acqua e mi ammbraco come fosse via. Fine. 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 sai bene. Fine. dı心